Madagascar. A chi non viene in mente il simpaticissimo film d'animazione firmato DreamWorks con protagonisti un gruppo di animaletti strampalati che scappano dallo zoo di Central Park per poi ritrovarsi in questa splendida e selvaggia isola e proprio il Madagascar o meglio Nozibé è la nostra nuova destinazione. Il Madagascar o la Grande Terra come la definiscono i Malgasci per la sua enorme estensione è la quarta isola al mondo per grandezza due volte l'Italia situata su una vasta piattaforma corallina nel canale di Mozambico. La lingua ufficiale è il Malgascio. Il francese è conosciuto solo nelle città. L'italiano e l'inglese vengono parlati solo da alcune guide e dal personale di alcuni hotel. Due sono le monete in circolazione il franco Malgascio e la nuova moneta l'Ariari. Con un volo Air Italy raggiungiamo la nostra destinazione l'isola di Nozibé la principale dell'omonimo arcipelago situato a nord del Madagascar. Nozibé, un paradiso nel blu. L'isola è un'esplosione di colori e vitalità. Al verde brillante della vegetazione tropicale si alternano tramonti infuocati. Alle spiagge candide le acque blu dai fondali corallini. L'isola principale, grande due volte l'elba, presenta un interno tutto da scoprire, con tratti di foresta, laghi sacri e villaggi primitivi. Nell'isola la temperatura è costante tutto l'anno e varia tra i 25 e i 30 gradi, con precipitazioni concentrate principalmente tra gennaio e marzo. Atterrati, ci si rende subito conto di quanto sia giustificato l'appellativo di isola profonda. profumata attribuitole dai malgasci. L'inebriante profumo delle spezie avvolge il visitatore con gli effluvi odorosi dei fiori dell'ilang-ilang, della vaniglia, della cannella. Tutte queste spezie ed essenze si ritrovano poi nei bazar e nelle boutique di Elville, vivace e caotica capitale di Nozibé. Ottimo punto di partenza per iniziare un tour di scoperta dell'isola. Visitiamo il tipico mercato situato nella piazza principale, dove è possibile acquistare l'artigianato locale, le famose spezie, nonché pesce, e la carne di Zevù, animale simile al nostro manzo, ma con una caratteristica e grossa gobba sul dorso sopra il collo. Lungo la strada principale, bancarelle e negozietti vari e caratteristici vendono dal riso all'olio, ai cosmetici alla rafia, una specie di pigna piccolina e dura di cui si succhia il liquido e che poi viene lavorata per produrre tovagliette, borse e cappelli. Cala il sole a Nozibé, regalandoci uno spettacolo mozzafiato. Per rendere il soggiorno indimenticabile, imperdibili sono le escursioni giornaliere in barca per scoprire le varie isolette dell'arcipelago di Nozibé. E così l'indomani partiamo per Nozirangia, l'isola delle tartarughe, fiore all'occhiello di tutto l'arcipelago, composta da due isole collegate da una lunga striscia di finissima sabbia bianca che appare e scompare con le maree, creando effetti spettacolari. Saliamo sin sopra il faro situato sulla grande irangia, dal quale ammiriamo un vero spettacolo. Un cielo indaco sovrasta spiagge candide e si riflette su di un mare cristallino. Nozibé è natura con la N maiuscola, la vegetazione lussureggiante e la fauna molto ricca. Ovunque infatti si fanno simpatici incontri, come a Nozicomba, l'isola dei Lemuri, così chiamata per la loro grande concentrazione in loco. I Lemuri macaco, abituati alla presenza dell'uomo, si avvicinano spesso per accettare dai turisti frutta varia e soprattutto le banane, di cui vanno ghiotti. Ci spostiamo alla volta del villaggio, fulcro della vita isolana. Sia lungo il tragitto che al suo interno, bambini scalzi e seminudi saltellano sorridenti intorno a capanne fatte con legno e tetti di palma. Le donne portano sulla testa cestini enormi pieni di pietanze e vestono con tessuti bellissimi e dai colori sgargianti. Gli uomini sono quasi tutti pescatori. Nozicomba è famosa, tra le altre cose, per la lavorazione delle stoffe con le quali realizzano grandi tovaglie, copriletti o centrotavola decorati con immagini raffiguranti, simboli tipici del posto, come le tartarughe. Saluta, dice ciao Italia. Ciao, l'Italia. Sono Anitra. Anitra. Ci soffermiamo per una visita alla riserva naturale dove facciamo altri simpatici incontri. Questa volta ci imbattiamo in camaleonti e tartarughe di terra. Il tour prosegue con un'escursione a nosi tanicheli, denominata dai malgasci piccola isola per la sua conformazione. È sede di un parco marino protetto, ricco di coralli, spugne, conchiglie e coloratissimi pesci corallini. Ideale per gli appassionati di immersioni, ma anche per trascorrere una giornata in pieno relax. È qui che si capisce il vero senso della parola ozio. Ma le escursioni in barca non sono l'unico modo per godere delle bellezze di nosi bè. Ovunque per l'isola scorrazzano taxi fatiscenti, dalla carrozzeria quasi nulla. Decidiamo di affrontare anche questa avventura per completare il tour dell'isola. Il nostro autista, Fabio, ci conduce presso un altro grande attrattore, il famoso albero sacro, un gigantesco ficus bengalensis di oltre 200 anni, i cui i rami e le radici aeree formano una cattedrale di oltre 50 metri di diametro. questo albero ha circa 200 anni. In principio queste piccole radici si formano una piccola linea, vene dell'alto si andano giù, che attaccano poi il sole e diventano appena appena un tronco, e tronco dono dei rami, e rami dono dei piccoli gli anni, e così via. L'albero costituisce un luogo religioso in cui tutti gli animisti si recano per pregare, portare doni o fare voti. Una ragazza del posto ci spiega che bisogna entrare coperti con un pareo, togliere le scarpe e fare il primo passo con il piede destro. Restiamo affascinati dalle decorazioni sul suo viso. Ci spiega che qui le ragazze malgasce hanno il volto interamente decorato con la creta per proteggere la loro pelle dall'azione dei raggi solari. Ci avviciniamo alla splendida spiaggia dell'Andilana, e lungo il tragitto, obbligata, è una sosta alle splendide e limpide cascate, inserite in una gola dalla vegetazione preistorica. Un vero spettacolo per gli occhi. 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 Andilana Beach, che paradiso. Magnifica, bianca, piena di conchiglie, con fresche palme a fare da cornice. Qui abbiamo un incontro ravvicinato con un camaleonte. È risaputo che la sua caratteristica è quella di mimetizzarsi cambiando colore ed assumendo quello dello sfondo su cui si trova, ma vederglielo fare dal vivo è tutta un'altra cosa. Non è possibile lasciare l'isola senza visitare la distilleria di Ylang Ylang, situata a poca distanza dalla capitale. I suoi fiori gialli e verdi e molto profumati sono ovunque. Siamo fortunati perché proprio al nostro arrivo un camion sta scaricando i fiori che vengono raccolti per essere distillati e ricavare così l'olio essenziale utilizzato come base per molti prodotti cosmetici, tra cui il famoso profumo Chanel numero 5. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.